bella ragazza e benvenuti in questo nuovissimo video oggi andremo a vedere dove trovare la prima moneta d'oro di questa settimana 7 però prima di iniziare un bello e costo una bella descrizione detto ciò let's go bella ragazza allora il primo punto per trovare questa moneta d'oro sarà proprio qui a razzle crest e faremo una bordata di xp detto ciò ragazzi se vi sono stati utili vi invito sempre iscrivervi al canale a lasciare un bel like e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video ciao ragazzi